Sembra essere diventato uno degli anfratti preferiti dei tossicodipendenti, proprio lì in quell'ex scuola materna di via Fabio Filzi dove sorgerà la nuova sede della polizia locale. In questo video, ripreso da un residente, si vede un uomo che con noscialanza effettua sul muretto dell'ex asilo tutte le fasi preparatorie di confezionamento, poi un ultimo sguardo attorno per evitare occhi indiscreti, quindi la sniffata, per poi andarsene tranquillamente. Scene ormai ordinarie che non sembrano neanche fare più notizia. Molti residenti di Saione, al di là delle polemiche che hanno accompagnato la scelta dell'amministrazione comunale di trasferire in via Filzi la sede della polizia locale, sembrano invece particolarmente contenti di questa novità, immaginando che un presidio del genere possa evitare in futuro episodi di questo tipo.